bere che la guerra nota dell'autore all'edizione del 1934 raccolgo in questo quattordicesimo volume delle mie novelle per un anno il racconto in otto capitoli bere che la guerra scritto nei mesi che precedettero la nostra entrata nella guerra mondiale vi è rispecchiato il caso a cui assistetti con maraviglia in principio e quasi con riso poi con compassione d'un uomo di studio educato come tanti allora alla tedesca specialmente nelle discipline storiche filologiche la germania durante il lungo periodo dell'alleanza era diventata per questi tali non solo spiritualmente ma anche sentimentalmente nell'intimità della loro vita la patria ideale nell'imminenza del nostro intervento contro di essa promosso dalla parte più viva e sana del popolo italiano e poi seguito da tutta intera la nazione costoro si trovarono perciò come sperduti e costretti alla fine dalla forza stessa degli eventi a riaccogliere in sé la vera patria patirono un dramma che mi parve sotto questo aspetto degno d'essere rappresentato primo la birreria fuori un altro sole strade del mezzogiorno sotto l'ardente azzurro del cielo tagliate da violente ombre violacee e la gente vi passa pur così carica di vita e di colori ariosa e leggera voci nel sole e selciati sonori dentro il buon tedescone spatriato si è fatto un po di patria attorno tra le quattro pareti vestite di legno della sua birreria e ne respira l'aria nel tanfo dei fusti che viene dalla cantina accanto nell'odor grasso di viustel ammontati sul banco in quello acre delle scatole di droga e stuzzicanti tutti con l'etichetta in duri e dritti caratteri tedeschi sono anche nei lucidi e vivaci manifesti turchini gialli e rossi appesi alle pareti più grossi più duri più dritti quei cari suoi caratteri tedeschi e i boccali i krugel istoriati gli shop disposti in bell'ordine nelle scansie li fan da sentinelle a guardia dell'illusione qual voce remota e angosciosa di tanto in tanto quando la birreria è vuota in ombra li canta in fondo all'anima la canzone nur in deutschland nur in deutschland davi lister ben atteggiato il fulvo faccione d'un largo sorriso cordiale salutava fino a ieri con festosi gargarismi i suoi fedeli avventori romani ora sta aggrondato e immobile dietro il banco e non saluta più nessuno sempre il primo ad arrivare alla birreria bere che lo guarda commosso dal tavolino in fondo alla sala col suo bravo krugel davanti la commozione gli dà un'aria truce perché anche la sua condizione si è fatta da un momento all'altro difficile vantava federico bere che fino a pochi giorni fa la sua origine tedesca chiaramente dimostrata oltre che dalla quadrata corporatura dal pelame rossiccio e dagli occhi ceruli anche dal cognome berecche corrotta pronunzia a suo credere ed un nome prettamente tedesco e tutti i benefici vantava derivati all'italia dalla lunga alleanza con quelli che erano allora gli imperi centrali nonché le virtù più perspicue della gente germanica che lui da tanti anni si sforzava ad attuare rigorosamente in sé e nell'ordinamento della sua vita e della sua casa soprattutto il metodo il metodo il metodo in quella birreria sul marmo d'un tavolino gli fanno la caricatura una scacchiera e berecche che vi passeggia sopra con la gamba levata a modo dei fantaccini tedeschi e un elmetto puntuto a chiodo sul testone la caricatura è nella scacchiera per dire che berecche vede il mondo così a scacchi e vi cammina alla tedesca con mosse ponderate e regolari da onesta pedina appoggiata al re alle torri agli elfieri sotto a quella caricatura un bello spirito ha scritto medioevo con un gran punto esclamativo la germania medioevo domandò sdegnato federico berecche quando vide sul marmo del tavolino quel disegno non riconoscendosi naturalmente nella caricatura ma riconoscendo l'elmetto a chiodo germanico medioevo la germania cari miei primato nella cultura primato nelle industrie primato nella musica e l'esercito più formidabile del mondo in prova di che tratta di tasca la scatoletta di legno turchina e gialla aveva acceso la pipa con uno streicholz perché berecche sdegna come molle l'uso e l'industria dei cerini italiani al primo annunzio della neutralità dichiarata dall'italia nel conflitto europeo ebbe perciò un fremito d'ira contro il governo italiano e il patto d'alleanza l'italia si tira indietro e chi potrà più d'ora in poi fidarsi di lei neutrali ma è tempo questo di stare affacciati alla finestra mentre tutti si muovono bisogna prendere subito posto per dio e il nostro posto non lo ha lasciato finire un coro di fierissime proteste di invettive di ingiurie l'ha assalito da ogni parte e sopraffatto il patto d'alleanza dopo che l'austria l'ha strappato aggredendo dopo che la germania impazzita dichiara guerra a destra guerra sinistra guerra fin anche alle stelle senza darcene avviso senza tener conto delle nostre condizioni ignorante imbecille che parola è parola combattere ai nostri danni aiutare l'austria a vincere noi e le nostre terre irredente e le nostre coste le nostre isole con la flotta inglese e francese contro di noi possiamo essere contro l'inghilterra noi ignorante imbecille federico berecchi ha tentato in prima di tener testa rinfacciando ai furibondi avversari i torti e le offese della francia tunisi vi siete così subito dimenticati della ragione della triplice alleanza ma orora durante la guerra libica i contrabbandi ai turchi e domani ignoranti e imbecilli voi altri domani ci rivedremo a campo formio a villa franca poi interrotto quasi a ogni parola si è provato a dimostrare che in ogni caso scusate scusate neutrali ma che neutrali di nome non di fatto perché in realtà più atto stile di questo vantaggio inestimabile soprattutto per la francia pecoroni neutralità ma nicolò macchiavelli avevano il coraggio di dare degli ignoranti a lui professore di storia in ritiro sicuro macchiavelli macchiavelli sui pericoli della neutralità il formidabile dilemma se due potenti i tuoi vicini vengono alle mani un urlata generale gli ha troncato in bocca la citazione ma se lui stesso diceva di nome non di fatto la neutralità che centrava più macchiavelli col suo dilemma atto stile si signori contro l'austria si signori perché l'austria agisce a nostro danno tant'è vero che si è mossa senza dircene nulla e dobbiamo essere grati alla sorte che lei stessa da sé con la sua azione in consulta ci abbia disimpegnati domani che la francia e la russia vincendo non vorranno tener conto dei vantaggi recati loro dalla nostra stensione e via ci penserà l'inghilterra salvaguardarci che non potrà permettere nel suo stesso interesse una diminuzione nostra sul mediterraneo con tali e simili argomenti la neutralità dell'italia è stata difesa così calorosamente che alla fine brecche ha dovuto arrendersi e non ha più osato fiatare l'idea che l'italia per la sua posizione geografica sarà domani il timone della situazione l'ha impressionato moltissimo il timone della situazione vuol dire che la fortuna volgerà da qual parte noi al momento opportuno ci gireremo e la rotta non potrà essere dubbia ma almeno armiamoci per dio ha tonato brecche esasperatamente levando le pugna pelose e così tonando in questo grido è inutile federico brecche si è sentito in fondo al cuore tedesco tuttavia iersera la birreria non ha più osato difendere i tedeschi dalle terribili accuse dei suoi amici nemmeno uno nemmeno il buon fongi sonnacchioso sempre d'accordo con lui per amor di pace favorevole alla germania non diceva nulla il buon fongi ma di tratto in tratto si voltava a guardarlo timorosamente con la coda dell'occhio forse aspettandosi un suo scatto di ribellione da un momento all'altro e brecche ha avuto quasi la tentazione di scaraventargli un pugno in faccia ha rifiatato quando gli amici lasciando da parte i tedeschi si sono abbandonati a considerazioni generali una specialmente gli si è fissata anche per l'aria cupa e grave con cui in un momento di silenzio l'amico che gli stava di fronte la enunciava guardando dentro il piccolo shop il velo salivoso lasciato dalla spuma a galla della birra tutto sommato per quanto funesti saranno gli eventi tremende le conseguenze possiamo esser lieti almeno di questo che ci sia toccato in sorte ad assistere all'alba di un'altra vita abbiamo vissuto 40 50 60 anni sentendo che le cose così come erano non potevano durare che la tensione degli animi si faceva mano a mano più violenta e doveva spezzarsi che infine lo scoppio sarebbe venuto ed ecco è venuto tremendo ma almeno vi assistiamo le ansie i disagi l'angoscia le smanie di una così lunga e sostenibile attesa avranno una fine e uno sfogo vedremo il domani perché tutto muterà per forza e noi tutti usciremo certamente da questo spaventoso sconquasso con un'anima nuova subito bere che ha fissato nella sala un tavolino e tre sedie da cui si elevavano gli avventori li ha fissati a lungo avvertendo di punto in punto sempre più per quelle tre sedie vuote quel tavolino abbandonato una strana malinconica invidia se ne è distratto con un profondo sospiro allorché un altro degli amici ha preso a dire e chissà pensate che l'india la cina la persia l'egitto la grecia roma diedero esse un tempo in là alla vita sulla terra un lume s'accende sfavilla per secoli e secoli in una regione in un continente poi a poco a poco si smorza vacilla si spegne chissà forse ora sarà la volta dell'europa chi può prevedere le conseguenze di un così inaudito conflitto forse non vincerà nessuno e si distruggerà tutto ricchezze industrie civiltà in là alla vita cominceranno forse a darlo le americhe mentre qua la rovina si farà a mano a mano totale e verrà tempo che le navi approderanno alle coste d'europa come si approda terre di conquista dentro un altro più profondo sospiro bere che si è veduto lontano lontano con tutto l'europa retrospinto nelle caligini d'una favolosa preistoria poco dopo è sorto in piedi e si è licenziato bruscamente dagli amici per ritornarsene a casa secondo di sera per via bere che abita in una traversa remota in fondo a via nomentana in quella traversa appena appena tracciata e ancora senza fanali sorgono soltanto tre villini a manca costruiti di recente a destra è una siepe campestre che cinge terreni ancora da vendere e da cui ispira nell'umidor della sera un fresco odore di fieno falciato meno male che uno dei tre villini è stato acquistato da un vecchio prelato molto ricco che vi abita con tre nipoti zitelle appassite le quali a turno sul far della sera montano su una scaletta a mano per accendere un lampadino innanzi alla madonnina di porcellana azzurra e bianca collocata da circa un mese a uno spigolo del villino di notte quel lampadino pietoso stenebra la traversa solitaria ci si sta come in campagna e come in campagna aperta si sente nel silenzio il fragorio lontano dei treni notturni dietro il cancello dei villini a ogni rumor di passi i cani s'avventano con furibondi latrati ma almeno bere che può godersi un po d'aperto davanti e la quiete dalle quattro finestre a pian terreno può vedere in un'ampia plaga di cielo le stelle con le quali conversa a lungo le notti nei suoi ozzi di tranquillo pensionato le stelle e la luna quando c'è e sotto la luna i pigni e i cipressi di villa torlonia a un pezzo di giardinetto anche lui di sua esclusiva pertinenza con una fontanella il cui chioccolio nei notturni silenzi gli è caro ma la moglie ahimè le due figliuole che li sono rimaste in casa l'unico figlio maschio già studente di lettere all'università la serva e ora anche il fidanzato della maggiore delle figliuole non sentono affatto la poesia della solitudine del cielo stellato della luna sopra i cipressi e i pini della villa patrizia e sbuffano sbadigliano lamentosamente come cani affamati al monotono perpetuo chiocchiolio di quella deliziosa fontanella sembra loro di star lì come relegati in esilio ma bere che metodo 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 ti è in duro e ha rinnovato l'affitto per tre anni ora l'incubo della distruzione generale che spegnerà ogni lume di scienze e di civiltà nella vecchia europa gli si fa sull'anima più grave e opprimente quanto più egli si affonda nel buio della via remota e deserta sotto la quadruplice fila dei grandi alberi immoti come sarà quale sarà la nuova vita quando lo spaventoso scompiglio sarà freddato nelle rovine con quale anima nuova ne uscirà lui a 53 anni altri bisogni altre speranze altri pensieri altri sentimenti tutto muterà per forza ma non questi grandi alberi intanto che non hanno per loro fortuna né pensieri né sentimenti mutata l'umanità attorno a loro essi resteranno gli stessi alberi tali e quali ai ai ha una gran paura federico berecche che ormai non gli verrà fatto di mutare neanche a lui più nel fondo del cuore qualunque cosa sia per accadere nel tempo che ancora gli avanza si è abituato a conversare con le stelle ogni notte e al freddo lume di esse i sentimenti terreni li si sono come rarefatti dentro non si direbbe perché la volontà di vivere esteriormente in quel certo suo modo metodico tedesco s'appalesa ancora in lui tenace ma in fondo è stanco e triste di una tristezza che gli eventi del mondo difficilmente potranno alterare vincano i francesi i russi e gli inglesi o vincano i tedeschi e gli austriaci sia o no l'italia trascinata anch'essa alla guerra venga la miseria e lo squallore della sconfitta o tripudi frenetica la vittoria per tutte le città della penisola si trasformi la carta geografica dell'europa non cangerà mai questo è certo il malanimo il chiuso rancore di sua moglie contro di lui il rammarico della sua vita tramontata senza alcun ricordo di vera gioia e nessuna potenza umana o divina potrà ridare la luce degli occhi alla sua più piccola figliuola da sei anni cieca ora rientrando in casa la ritroverà seduta in un angolo della saletta da pranzo con le mani ceree sulle gambe la testina bionda appoggiata al muro e poiché dal visino spento non si conoscerà se dorma o sia sveglia le chiederà come ogni sera dormi ghettina e margheritina senza rimuovere il capo dal muro gli risponderà no papà non dormo non parla mai non si lamenta mai pare che dorma sempre forse non dorme mai bereg proseguendo la via sotto i grandi alberi si raschia la gola perché da uomo forte educato alla tedesca non vuol lasciarsela serrare dall'angoscia ma tutti vivono nella luce lui stesso vive nella luce può darsi pace mentre c'è questa cosa orribile nella vita che la sua figliuola vive nel buio sempre e sta lì in silenzio con la testina appoggiata al muro in attesa di morire un'attesa che durerà chissà quanto un'altra vita altri pensieri altri sentimenti già sì carlotta la figliuola maggiore ha lasciato da un anno i corsi universitari perché si è fidanzata con un bravo ragazzo della valle di non nel trentino laureato appena da un anno in lettere filosofia all'università di roma bravo ragazzo di animo acceso di nobili sentimenti e pieno di buona volontà ma ancora senza stato e ora più che mai incerto dell'avvenire tre dei suoi fratelli a san zeno sono stati richiamati sotto le armi il padre è capo comune di san zeno quei tre poveri fratelli non han potuto perciò sottrarsi all'obbligo odioso di combattere per l'austria e chissà se le cose per noi si mettono male forse anche contro l'italia domani che orrore lui intanto non si è presentato all'appello e addio dunque valle di non addio san zeno addio vecchi genitori disertore di guerra domani se preso sarebbe impiccato fucilato alla schiena ma spera che l'italia chissà correrebbe volontario anche a costo di trovarsi a combattere contro quei suoi disgraziati fratelli insieme con faustino correrebbe bere che torna a raschiarsi più forte la gola fino a stracciarsela al pensiero che faustino il suo unico maschio il suo prediletto che per fortuna quest'anno non è ancora di leva andrebbe ad arruolarsi volontario insieme col futuro cognato egli non potrebbe più dirgli di no ma per dio maledetta la gola maledetto l'umido della notte con tutti i suoi 53 anni sonati con tutta quella carnaccia che gli si è appesantita addosso andrebbe ad arruolarsi anche lui allora per non lasciare andar solo faustino per non morir di terrore una volta al giorno a ogni annunzio di battaglia sapendo faustino e mezzo al fuoco sì signori anche lui bere che andrebbe volontario col pancione anche anche contro i tedeschi sì signori eccola eccola subito già l'altra vita la guerra col figliuolo giovinetto da un lato e dall'altro lato l'altro figliuolo nuovo alla conquista delle terre irredente chissà forse domani bere che è arrivato volta a destra in bocca la traversa solitaria ecco nel buio fitto il lumino rosso innanzi alla madonnina miracoli dell'altra vita si ferma bere che innanzi a quel lumino si scopre non visto da nessuno per dire qualcosa a quella madonnina e abbaino abbaino pure furibondi dietro i cancelli i cani terzo la guerra sulla carta bere che ricorda 44 anni fa bandierine francesi e bandierine prussiane quelle sole allora infisse come ora con gli spilli sulla carta geografica distesa su un tavolino della saletta da pranzo teatro della guerra che bel gioco per lui ragazzo allora di nove anni la rivede come in sogno quella saletta gialla da pranzo della casa paterna quei lumi a petrolio d'ottone e i paralumi di mantino verde tante casse in giro coperte da pancali di drappo a fiorami un canterano panciuto di qua una mensola di là e due cantonieri agli angoli con cestelli di frutta di marmo colorate e fiori di cera sui palchetti su quella sinistra un orologetto di porcellana che figurava un mulino a vento suo amore con una delle ali rotte attorno a quel tavolino che ora unico decrepito superstite nascosto da un tappetino nuovo è in camera del suo figliuolo rivede suo padre e alcuni amici discutere sulla guerra franco prussiana farsetti sgarbati abbottonati fino al collo e calzoni larghi a tubo baffi insegati e moschetta alla napoleone terzo barba collana alla cavour curvi su quella carta geografica segnavano col dito la via degli eserciti secondo le indicazioni e le previsioni degli scarsi e tardivi giornali dall'ora e parlavano accesi e nessuno lasciava quieto su questo quella traccia il dito dell'altro un altro dito e poi un altro e un altro ciascuno voleva metterci il suo e ognuno di quei diti ricorda ai suoi occhi infantili assumeva subito una strana personalità quello tozzo e duro si piantava ostinato su un punto l'altro nervoso e spavaldo gli fremeva davanti per passare da quello stesso punto ed ecco il terzo un ditino mignolo storto sopravveniva di straforo in aiuto di questo di quello e si insinuava tra quei due che si scostavano per dargli passo e che grida e che sbuffi che esclamazioni o stridule risate su tutte quelle dita tra una nuvola di fumo di tanto in tanto un nome che tonava come una cannonata mack maun verè che sorride al lontano ricordo poi aggrotta le ciglia e resta assorto con le mani a pugno chiuso sui ginocchi discosti considera la carta geografica che li sta davanti ora con tante bandierine di tanti colori con tutte queste bandierine variopinte se potesse venire fuori dal ricordo lì nello scrittoio innanzi a lui vecchio il ragazzetto di nove anni che giocava allora alla guerra chissà come si divertirebbe al nuovo gioco più grande più vario e complicato belgio francia inghilterra di qua contro la germania contro la russia di là nella prussia orientale in polonia di giù contro l'austria la serbia il montenegro e contro l'austria ancora la russia più su in galizia che matta voglia avrebbe il ragazzetto di nove anni di far passare di corsa sorvolare sul belgio quelle bandierine tedesche tra gli inchini ossequiosi delle bandierine belghe in quattro salti farle arrivare a parigi piantarne lì un paio vittoriose e in altri quattro salti farle tornare indietro e avventarle contro la russia insieme con quelle austriache così così è incredibile come nel gioco avrebbe fatto lui ragazzetto di nove anni hanno pensato sul serio di poter fare i tedeschi ora dopo 44 anni di preparazione militare sul serio hanno pensato che il belgio neutrale potesse lasciarsi invadere quietamente e lasciarli passare senza opporre la minima resistenza a liegi a namur per dar tempo alla francia impreparata di raccogliere gli eserciti e all'inghilterra di sbarcare le sue prime milizie ausiliarie così gli amici della birreria strillano ogni sera come aquile contro l'iniqua invasione e gli atti di selvaggia ferocia lui bere che non insorge sta zitto pur sentendosi divorare dentro dalla rabbia perché non può gridare loro in faccia come vorrebbe imbecilli che strillate è la guerra non insorge in gozza perché è sbalordito sbalordito non di quella invasione non di quegli atti di ferocia ma della colossale bestialità tedesca sbalordito dall'altezza del suo amore della sua ammirazione per la germania cresciuti smisuratamente con gli anni questa colossale bestialità è precipitata come una valanga fracassargli tutto l'anima il mondo quale se l'era a mano a mano dai nove anni in su tedescamente costruito con metodo con disciplina in tutto negli studi nella vita nelle abitudini della mente e del corpo ah che rovina il ragazzetto di nove anni era cresciuto cresciuto era il suo amore era la sua ammirazione diventato un gigante florido e prosperoso che sapeva tutto meglio degli altri che faceva tutto meglio degli altri ecco dopo 44 anni di preparazione si rivelava un bestione forzuto sì dalle mani e dalle zampe bene addestrate e poderose ma che pensava sul serio di poter giocare alla guerra ancora come un ragazzaccio feroce di nove anni o come se al mondo ci fosse lui solo e gli altri non contassero per nulla in quattro salti passare attraverso il belgio e andare a piantare le bandierine un paio su parigi e poi via di corsa in altri quattro salti su pietroburgo e su mosca e l'inghilterra incredibile incredibile nello sbalordimento bere che non finisce più desclamare così non trova più da dir altro incredibile e con le mani si gratta la testa e sbuffa e le bandierine qualcuna vola altre si piegano altre si abbattono sulla carta geografica lì tappato nel suo studio che nessuno lo vede bere che si sente voltare il cuore in petto al ricordo di ciò che gli intendeva per metodo tedesco al tempo dei suoi studi al ricordo delle soddisfazioni ineffabili che solidava quando con gli occhi stanchi della faticosa paziente interpretazione dei testi e dei documenti ma con la coscienza tranquilla e sicura d'aver tenuto conto di tutto di non essersi lasciato sfuggire nulla di non aver trascurato nessuna ricerca utile necessaria palpeggiava la sera rincasando dalle biblioteche la sul tavolino da studio il tesoro dei suoi schedari voluminosi e tanto più si sente sanguinare il cuore in quanto ora avverte con sordo livore che per le soddisfazioni che gli dava quel metodo egli sotto sotto commetteva la vigliaccheria di non dare ascolto a una certa voce segreta della sua ragione insorgente contro alcune affermazioni tedesche che offendevano in lui non soltanto la logica ma anche in fondo in fondo il suo sentimento latino l'affermazione per esempio che ai romani mancasse il dono della poesia e accanto a questa affermazione la dimostrazione che poi fosse leggendaria tutta la prima storia di roma ora o l'una cosa o l'altra se leggendaria cioè finta quella storia come negare il dono della poesia o poesia o storia impossibile negare l'una e l'altra cosa o storia vera e grande o poesia non meno grande e vera e con questo li tornano ora alla mente le parole del vecchio Goethe dopo aver letto i due primi volumi della storia romana del nebur fino alla prima guerra punica finora credevamo alla grandezza di una lucrezia ad un muzio scevola perché annientare con piccoli ragionamenti la grandezza di simili figure se i romani furono così grandi da credersi capaci di tali cose non dovremmo noi essere almeno così grandi da prestare loro fede Goethe schiller e prima Lessig e poi Kant e Hegel ah quando era piccola quando ancora non era la Germania questi giganti e ora gigante ecco qua si è buttata pancia a terra con le mani afferrate sotto il petto e un gomito qua sul belgio e in francia l'altro là sulla russia in polonia smuovetemi se siete capaci quanto resisterà il bestione così piantato oh bestione sono tanti sono tanti e tu contavi di sbrigarti in due zampate hai sbagliato non hai visto niente non hai vinto subito ti sei buttato così a terra puntando le gomita di qua e di là potrai resistere a lungo oggi o domani ti smuoveranno ti slogheranno ti faranno a pezzi verè che balza in piedi congestionato ansante come se avesse fatto lo sforzo di smuovere da terra il bestione quarto la guerra in famiglia che avviene di là strilli pianti nella saletta da pranzo vere che accorre vi trova il fidanzato della figliola maggiore il dottor gino viesi della valle di nonne il trentino pallido con gli occhi pieni di lacrime e una lettera in mano notizie i fratelli grida carlotta fremente guatandolo con occhi rossi di pianto ma feroci gino viesi gli mostra senza guardarlo la lettera che gli trema in mano due dei tre fratelli filippo di 35 anni padre di quattro bambini erminio di 26 sposo di pochi giorni richiamati dall'austria sotto le armi e mandati in galizia ebbene nessuno risponde tutte e due morti il giovane riassalito da un impeto di pianto prima di nascondere il volto facenno uno con un dito uno è certo dice a berecche piano con astio anzi con rancore la moglie mentre carlotta si alza per sorreggere il fidanzato e piangere con lui erminio la moglie dura tozza scapigliata scuote il capo no l'altro il padre di quattro figliuoli gino viesi scoppia in più forti singhiozzi sulla spalla di carlotta ed erminio la moglie soggiunge urtata non si sa scomparso margherita la cechina occhi per vedere come piangano gli altri con quali aspetti un aspetto quello di gino fidanzato della sorella che chiama anche lei gino non sa neppur come sia occhi per vedere no ma per piangere sì li ha ancora e piange in silenzio lacrime che ella non vede che nessuno vede là nel suo cantuccio appartata e nemmeno uno grida per noi prorompi alla fine gino viesi levando il capo dalla spalla di carlotta e facendosi innanzi a berecche nemmeno uno grida per noi nessuno fa niente gli hanno mandati tutti al macello i trentini e i triestini e qua tutti voi altri sapete che il sentimento nostro è il vostro stesso e che là vi si aspetta lo sapete ma nessuno ora prova in sé lo strazio di vedere strappati a questo vostro sentimento i fratelli nostri e mandati là al macello nessuno nessuno e quei pochi che siamo qua di trento e di trieste siamo come spatriati in patria e per miracolo lei lealista non mi grida che il mio posto sarebbe là a combattere e a morire per l'austria con gli altri miei fratelli io esclama berecche trasecolato lei tutti incalza il giovine nella furia del dolore ho veduto ho sentito non ve ne importa nulla dite che non va la pena che l'italia si muova per aver trento che forse l'austria le darà un giorno pacificamente per aver trieste che non vuole essere italiana non dite così lo dite e lo sentite e perciò ci avete fatto calpestare sempre e non siete stati mai buoni d'ottenerci nulla genoviesi è giovine e addolorato così col bel volto in fiamme e il bel ciuffo biondo scomposto non può intendere che nulla irrita tanto quanto il porre innanzi in certi momenti e il far gridare un sentimento che è il nostro stesso in segreto ma che noi vogliamo tenere nascosto dentro soffocato ancora da certe ragioni che ci si sono già scoperte false queste ragioni allora si infiammano del sentimento che pur essendo nostro ci vediamo opposto come nemico e ci vediamo tratti a difendere ciò che in fondo stimiamo falso e ingiusto questo avviene ora berecche irritato grida il giovine ma che vorresti che l'italia impedisse all'austria in guerra a dimandare contro la russia e contro la serbia i trentini e i triestini finché state sotto di lei è nel suo diritto ah sì dice diritto lei grida a sua volta gino viesi e dunque se questo è il diritto dell'austria legittimo io secondo lei che faccio manco ai miei doveri io standomene qua dobbiamo andare tutti a morire per l'austria vero lo dica lo dica diritto ma sì quello del padrone che manda scudisciate gli schiavi dove gli pare piace ma chi ha mai riconosciuto all'austria il diritto di tenere sotto di sé trento trieste l'istria la dalmazia se lei stessa l'austria sa di non averlo questo diritto sì tanto è vero che fa di tutto per sopprimerci per cancellare ogni vestigio di italianità da quelle terre nostre l'austria sì lo sa e voi no voi che la lasciate fare e ora di fronte a una guerra che subito dal principio si è presentata come volta ai danni nostri contro gli interessi nostri ora la neutralità è vero il partito da prendere e non le armi per la liberazione nostra e la difesa di quegli interessi là appunto dove prima l'austria ha cominciato a minacciarli ma la neutralità si prova a opporre berecche ginoviesi non gli lascia il tempo di proseguire sì benissimo per voi soggiunge perché nessuno poteva venire qua a costringervi a marciare a combattere contro il sentimento vostro e i vostri interessi ma avete pensato a noi di là che dovremmo essere appunto questo sentimento vostro che siamo appunto ciò che chiamate i vostri interessi noi di là ci avete lasciati prendere con la vostra neutralità e trascinare al macello e dite ancora che era il diritto dell'austria questo e nessuno grida per il sangue dei miei fratelli uccisi gridano tutti invece viva il belgio qua viva la francia ora ora venendo le ho incontrate le colonne dei dimostranti per le vie di roma un delirio e faustino domanda un tratto berecche rivolto alla moglie la pure lui coi dimostranti risponde subito ginoviesi viva il belgio viva la francia berecche furibondo appunta minacciosamente l'indice contro la moglie e tu me lo lasci scappare di casa e non me ne dici niente ma che sono diventato io qua si rispettano così adesso le mie idee i miei sentimenti lo dico a te e lo dico a tutti ah sì vive il belgio viva la francia ma la vorrò vedere io domani la francia quando con l'aiuto degli altri avrà vinto domani addosso a noi di nuovo il galletto quando avrà rialzato la cresta vittoriosa con l'aiuto degli altri imbecilli 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 e berecche dopo questa sfuriata scappa a rinchiudersi nel suo studio tutto sconvolto e tremante della violenza che ha dovuto fare a se stesso che cosa che cosa addio che cosa crollato tutto dentro ma può forse permettere che gli altri se ne accorgano la germania fino a ieri è stata il suo prestigio la sua autorità in casa è stata tutto per lui la germania fino a ieri e ora ecco qua ora ogni mattina la moglie anche questo appena la serva ritorna dalla spesa giornaliera lo investe domanda conto e ragione a lui di tutti i viveri rincarati di tanto il pane di tanto la carne di tanto le uova come se l'avesse voluta lui mossa lui la guerra col cuore esulcerato con la rovina dentro gli tocca anche d'affogare in tutte queste volgarità della moglie che per miracolo non lo vuole anche responsabile del pericolo a cui chiamato prima del tempo sotto le armi è mandato a combattere se l'italia sarà anch'essa trascinata in guerra non rappresenta forse la germania lui in casa la germania che ha voluto la guerra e sì signori per il suo prestigio in famiglia deve seguitare ancora rappresentarla se no se no che cosa è quel bel risultato il figliuolo che gli scappa di casa e va a gridare con gli altri imbecilli per le vie di roma viva la francia e quell'altro povero giovine di là a cui hanno ucciso due fratelli che lo accusa della neutralità dell'italia e del macello dei trentini e dei triestini sotto leopoli a germania infame 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 non ha previsto neanche questo male questa tragedia nel cuore di tanti e tanti che in italia e anche in altri paesi con così duro sforzo e amari i sacrifici soffocando tanti sbadigli ingozzando tanta roba indigesta erudizione musica filosofia se erano educati ad amarla e a far professione di questo amore germania infame ecco così adesso ripaga le sue vittime dell'amore e dell'ammirazione professati a lei per tanti anni berecche non potendo far altro la tempesterebbe di colpi di spillo là di nascosto sulla carta geografica con tutte le bandierine francesi inglesi belghe russe serbe e montenegrine verè che la guerra quinto la guerra nel mondo si è fatto sera ma egli resta al buio nel suo studio e passeggia con una mano sulla bocca guardando di tanto in tanto l'estremo barlume del crepuscolo ai vetri delle due finestre scorge da una il lampadino rosso già acceso innanzi alla madonnina del villino di rimpetto aggrotta le ciglia e si appressa alla finestra vede allora al lume della grossa lampada che si proietta nel vestibolo uscire di casa e attraversare il giardino sua moglie con margheritina per mano va che non pare la piccola cara quasi non pare se non si sapesse almeno a guardarla così di dietro forse perché si fida della mano che la guida solo a osservarla attentamente tiene la testina un pochino rigida sul collo e le spallucce un pochino rialzate la ghiaia non stride sotto i suoi piedini perché l'anima è levata per non toccare quel che non vede e il corpicciolo quasi non pesa ma dove va con la mamma a quest'ora e faustino come non è ancora rincasato sarà andato via gino viesi verè che si reca a far tutte queste domande a carlotta nella saletta da pranzo non c'è più nessuno carlotta si è chiusa nella sua stanza e seguita a piangere anch'essa al buio risponde alle domande col tono secco e sgarbato della madre gino andato via faustino che ne sa lei la mamma con ghettina da monsignore per la novena da tre sere nel villino di monsignore di rimpetto si fanno preghiere per il papa che sta male per il papa che muore verè che rientra nello studio si riappressa la finestra e guarda il villino di rimpetto con l'animo ora oscurato e compreso di cordoglio per questo papa santo vecchio paesano qui solo la schiettezza grande della fede fa degno del gran seggio a chi più di lui pio veramente volle richiamare cristo nel cuore dei fedeli e muore in mezzo a tanta guerra ucciso dal dolore di tanta guerra certo sul suo letto di morte egli non dirà come forse dice piano qualcuno accanto a lui che questa guerra è per la francia la retribuzione giusta di dio per i suoi torti verso la chiesa più ne fan di peccatori per lui sono certo quegli altri che hanno osato chiamar dio a proteggere la marcia e la carneficina dei loro eserciti e il segno della divina protezione hanno osato vedere ed esaltare nelle atrocità delle loro vittorie egli non ha detto più nulla con orrore ha ritratto la mano che altri voleva levata a benedire questa scelleraggine mostruosa e si è chiuso nel dolore che l'uccide l'uomo è maledetto della ragione ragione maledetta che non sa accecarsi nella fede lui brecche vede o crede di veder con questo lume tante cose che l'impediscono ora di pregare con la sua piccola figliuola margherita cieca nella cieca fede per il papa buono che muore ma è contento sì che la preghi di là la sua margheritina è contento che una parte di lui così angosciosamente amata priva di quel suo lume di ragione cieca preghi di là per il buon papa che muore gli sembra veramente che con le palli dei graci le mani di quella sua piccola cieca giunte nella preghiera egli della sua anima che per sé non sa pregare di adesso qualcosa quel che può in suffragio del buon papa che muore intanto si fanno le otto della sera poi le nove poi le dieci e faustino ancora non rincasa la madre è ritornata da un pezzo con ghettina dal villino di monsignore e la sorella carlotta sono entrate più volte nello studio a manifestare la loro costernazione a scongiurarlo a mani giunte di muoversi da andare in cerca di lui per sapere almeno se qualche disgrazia dio liberi non sia accaduta con quelle maledette dimostrazioni verè che le ha cacciate via furente ha gridato loro in faccia di non volersi muovere perché di quel mascalzoncino lano gliene importa più nulla non lo considera più come suo figliuolo e se l'hanno calpestato ferito arrestato piacere 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 finalmente poco dopo le dieci e mezzo faustino rincasa con addosso una gran paura del padre ma pure acceso e vibrante ancora di quanto gli è accaduto lo hanno arrestato ma vibra di sdegno di nausea per l'ira dei soldati ha per fortuna pochi che lo hanno arrestato malmenandolo e gridandogli vigliacco fai così perché non dovrai andarci tu domani alla guerra e ora lui vuole andarci vuole andarci vuole andarci alla guerra per dare a quei soldati che lo hanno arrestato una degna risposta zitto gli grida la madre più scarmigliata che mai se tuo padre ti sente di là ma bere che non si muove dallo studio non vuole vederlo alla moglie che viene ad annunziargli che è ritornato ordina di dirgli che non si arrischia a farsi vedere poco dopo carlotta sporge il capo dall'uscio la cena è pronta fausto in camera sua resto io qua mi porti qua da cena la serva non voglio veder nessuno ma non può cenare a un nodo alla gola più di rabbia che d'angoscia a poco a poco però comincia a calmarsi a cadere quasi in un letargo grave attonito a lui ben noto è la ragione filosofica che pian piano come si fa sera riprende in lui il predominio verè che si alza s'appressa alla finestra più vicina siede e si mette a guardare le stelle la vede per gli spazi senza fine come forse nessuna o appena forse qualcuna di quelle stelle la può vedere questa piccola terra che va e va senza un fine che si sappia per quegli spazi di cui non si sa la fine va a granellino infimo gocciolina d'acqua nera e il vento della corsa cancella in uno striscio violento di tenue barlume i segni accesi dell'abitazione degli uomini in quella poca parte in cui il granellino non è liquido se nei cieli si sapesse che in quello striscio di tenue barlume sono milioni e milioni d'esseri irrequieti che da quel granellino lì credono sul serio di potere dettar legge a tutto quanto l'universo imporgli la loro ragione il loro sentimento il loro dio il piccolo dio nato nelle animucce loro e che si credono creatore di quei cieli di tutte quelle stelle ed ecco se lo pigliano questo dio che ha creato i cieli e tutte le stelle e se lo adorano e se lo vestono a modo loro e gli chiedono conto delle loro piccole miserie e protezione anche nei loro affari più tristi nelle loro stolide guerre se nei cieli si sapesse che in quest'ora del tempo che non ha fine questi milioni e milioni d'essere impercettibili in questo striscio di tenue barlume sono tutti quanti tra loro in furibonda zuffa per ragioni che credono supreme per la loro esistenza e di cui i cieli le stelle il dio creatore di questi cieli di tutte queste stelle debbano occuparsi minuto per minuto seriamente impegnati in favore degli uni o degli altri c'è qualcuno che pensi che nei cieli non c'è tempo che tutto sinabis avvanisce in questo vuoto tenebroso senza fine e che su questo stesso granellino domani tra mille anni non sarà più nulla o ben poco si dirà di questa guerra che ora ci sembra immane e formidabile ricorda bere che come gli insegnava or sono pochi anni la storia ai suoi alunni di liceo intorno al 950 ridotti in obbedienza i danesi che gli si erano ribellati passò ottone in boemia a combattere il duca bodeslao che erasi costituito indipendente e spintosi fin davanti a praga costrinse quel duca a ritornare vassallo del germanico regno nel tempo stesso il fratello suo enrico usciva in campo contro gli ungari e li cacciava oltre la tais togliendo loro le conquiste fatte sotto il regno di lodovico il bimbo domani tra mille anni un altro bere che professore di storia dirà ai suoi alunni che intorno al 1914 c'erano ancora potenti e fiorenti nel centro d'europa due imperi uno detto di germania su cui sedeva un guglielmo secondo d'una dinastia scomparsa che pare fosse detta degli oen zollern e detto l'altro impero d'austria su cui sedeva vecchissimo francesco giuseppe della dinastia degli asburgo erano questi due imperatori tra loro alleati e forse entrambi almeno a quanto si suppone per certi dati benché a lume di logica non paia verosimile alleati anche col re d'italia un vittorio emmanuele terzo della dinastia di savoia il quale però almeno in principio mancò alla guerra che quell'imperatore di germania togliendo pare a pretesto l'uccisione per mano dei serbi don tal francesco ferdinando arciduca ereditario d'austria stupidamente mosse contro la russia la francia e l'inghilterra allora anche esse alleate tra loro e potentissime una segnatamente l'inghilterra padrona in quel tempo dei mari ed innumerevoli colonie così tra mille anni pensa berecche questa atrocissima guerra che ora riempie d'orrore il mondo intero sarà in poche righe ristretta nella grande storia degli uomini e nessun cenno di tutte le piccole storie di queste migliaia e migliaia di esseri oscuri che ora scompaiono travolti in essa ciascuno dei quali avrà pure accolto il mondo tutto il mondo in sé e sarà stato almeno per un attimo della sua vita eterno con questa guerra e questo cielo sfavillante di stelle nell'anima e la propria casetta lontana lontana e i propri cari il padre la madre la sposa le sorelle in lacrime e forse ignari ancora intenti ai loro giochi piccoli figli lontani lontani quanti feriti non raccolti morenti sulla neve nel fango si ricompongono in attesa della morte e guardano innanzi a sé con occhi pietosi e vani e più non sanno vedere la ragione della ferocia che ha spezzato sul meglio d'un tratto la loro giovinezza i loro affetti tutto per sempre come niente nessun cenno nessuno saprà chi le sa anche adesso tutte le piccole innumerevoli storie una in ogni anima dei milioni e milioni d'uomini di fronte gli uni agli altri per uccidersi anche adesso poche righe nei bollettini degli stati maggiori si è progredito si è indietreggiato tre quattromila tra morti feriti e scomparsi e basta che resterà domani dei diari della guerra su per i giornali ove una minima parte di queste piccole innumerevoli storie sono appena in brevi tratti accennate quei galletti quei galletti che all'alba cantavano a belgrado deserta e bombardata dai cannoni austriaci al principio della guerra o cari galletti ecco di qui a mill'anni berecche se potesse ritornare al mondo a insegnare la storia di mill'anni addietro quando ogni memoria dei fatti che ora ci sembrano enormi sarà cancellata e tutta questa immane guerra sarà per gli uomini venturi ristretta in poche righe ecco di voi cari galletti vorrebbe ricordarsi berecche e dire che voi cantavate all'alba a belgrado come se nulla fosse tra le bombe che scoppiavano sulle case deserte fumanti no questa non è una grande guerra sarà un macello grande una grande guerra non è perché nessuna grande idealità la muove e la sostiene questa è guerra di mercato guerra ad un popolo bestione troppo presto cresciuto e troppo faccente e saccente che ha voluto aggredire per imporre a tutti la sua merce e bene armata e azzampata la sua saccenteria con quest'ultima considerazione berecche si leva passeggia aggrondato ancora un po per lo studio poi esce sul corridoio vede accostato l'uscio della camera del suo figliuolo stende una mano e pian piano lo schiude faustino è a letto con le coperte tirate fin sotto il naso ma agli occhi sbarrati nel buio della cameretta accesi ancora i brillanti disdegno subito vedendo entrare il padre li chiude e finge di dormire placidamente berecche lo guata accigliato tentenne il capo vedendo in giro la cameretta in disordine poi con le mani in tasca avviandosi per uscire dice piano strascicato con un tono apparentemente di derisione per il figliuolo ma che in realtà esprime il suo sentimento cangiato viva già viva il belgio viva la francia sesto il signor livo truppel teutonia la primogenita che la madre finché la ebbe con sé chiamo sempre tonia come del resto lei stessa ha voluto sempre essere chiamata dalle due sorelle più piccole dal fratello e poi anche dal marito è da tre anni fuori di casa sposa del signor livio truppel ottima pasta d'uomo alieno dalla politica oriundo svizzero tedesco ma ormai non più svizzero e tanto meno tedesco non se l'è mica dato né scelto da sé il signor truppel quel cognome gli è venuto da suo padre morto a zurigo da tanti anni e non ci tiene forse lì a zurigo chiamarsi truppel voleva dire qualche cosa ma fuori del paese natale cioè fuori delle relazioni parentele e conoscenze che cos'è più un cognome per uno sconosciuto tanto vale chiamarsi truppel quanto chiamarsi in un altro modo qualsiasi se non fosse per aver le carte in regola il signor livio per conto suo dentro di sé si conosce un'anima pacifica senza cognome senza stato civile né nazionalità un'anima per due occhi aperta qua come altrove all'inganno delle cose che certamente non sono come appaiono se un po' si vedono in un modo e un po' in un altro a seconda dell'animo e degli umori egli fa di tutto per non alterarselo mai il suo modo e si contenta di poco perché quel poco sa gustarselo in pace e con saggezza come gli innocenti piaceri della natura la quale a dir vero è una di tutti e non sa né di patrie né di confini candido com'è e di tenero cuore al signor truppel piacciono specialmente le giornate di nuvole chiare quelle dopo le piogge quando c'è sapore di terra bagnata e nell'umida luce l'illusione delle piante e degli insetti che sia di nuovo primavera di notte guarda quelle nuvole che dilagano sulle stelle e le annegano per poi lasciarle riapparire su brevi profonde radure d'azzurro guarda anche lui come il suocero quelle stelle sogna senza sogni e sospira di giorno il signor truppel si considera un bravo uomo nella vita un bravo uomo così e basta non già a roma cioè in italia o altrove no nella vita così e basta anzi propriamente un bravo orologiaio nella vita tutto circoscritto nei limiti del suo banco ricoperto di candida tela cerata dietro la vetrina della sua bottega in via condotti si incastra nell'occhio destro il monocolo a cannoncino e curvo sulla pinzetta fissata al banco prova e riprova con inesauribile pazienza sul pezzo da accomodare i tanti piccoli attrezzi del suo pazientissimo mestiere lime seghe e calibri nel silenzio trapunto dall'assiduo acuto sottile pulsare dei cento orologi non li passa minimamente per il capo nell'adoperare con infinita delicatezza quegli esili strumentini sul fragile congegno complicato degli orologi che in quello stesso momento altrove per tanta parte d'europa uomini come lui a milioni ben altri strumenti adoperano fucili cannoni baionette bombe a mano per un lavoro ben diverso da questo suo da accomodare orologi e che il silenzio vibrante qua attorno a lui dall'acuzia di quel ticchettio continuo appena percettibile è straziato altrove dall'orrendo rimbombo d'obici e di mortai il suo mondo la sua vita sono concentrati lì di giorno in una calotta d'orologio come di notte sciolta ormai da quasi tutte le passioni terrene la vita del suo spirito è assorbita nella contemplazione dell'armonia di ben altre sfere quelle celesti benché il signor truppa il paia uno stupido si può giurare dal modo come sorride voltandosi a richiamarlo da quelle sue celesti e contemplazioni che egli non considera il firmamento come un sistema d'orologeria è rimasto perciò propriamente come uno che caschi dalle nuvole l'altra sera allorché uscito sulla strada per abbassare la saracinesca si è vista addosso una grossa frotta di dimostranti la quale passando come un uragano si è avventata contro la sua bottega di orologiaio egli ha fracassato in un batter d'occhio insegna sporti vetrina ogni cosa passato il primo sbalordimento per il fracasso dei vetri rotti il signor livo truppa il non temette tanto per sé quanto per il fratello suo socio nell'orologeria e di natura ben altra dalla sua ispido cupo e bestiale tondo tondo biondo biondo il signor livo si buttò avanti parando con le manine bianche grassocce con gli occhi pieni di lacrime quegli occhi che di solito hanno la limpida chiarità ridente dello zaffiro a gridare a quei dimostranti che gli era svizzero e non tedesco svizzero e non tedesco svizzero svizzero da più di 25 anni in italia e genero di un italiano il signor professor berecche sì a chi lo gridò ai suoi vicini di bottega che lo conoscevano bene e sanno tutti che per la duomo sia i dimostranti fatto il danno si erano già allontanati da un pezzo sicurissimi di aver compiuto un atto se non proprio eroico certo molto patriottico ma il danno anche quello via roba da poco il guaio il vero guaio è stato per il fratello che il signor truppa il credeva ancora dentro la bottega e invece no non c'era più ter teufel corso dietro a quei dimostranti imbestialito orbene questo fatto che per il pacifico signor truppel ha avuto l'importanza di un semplice malinteso tra lui e la popolazione romana a causa del suo cognome tedesco malinteso deplorevole sì ma da non farne poi un gran caso certamente non sarebbe stato cagione di gravi dispiaceri in famiglia se il fratello non avesse riconosciuto tra quella frotta di dimostranti faustino il suo piccolo cognato il fratello bisogna dire la verità non gli è imposto da abbandonare la moglie il tetto coniugale perseguitare a convivere con lui in una casa a parte no ma ha preteso e si è fatto promettere e giurare che almeno non avrebbe rimesso piede mai più nella casa del suocero e che se il suocero verrà qualche sera da lui a visitare la figliuola egli ove non riesca lì per lì a trovare una scusa per andarsene fuori di casa oltre il saluto non gli rivolgerà la parola e dopo il saluto sputerà in terra così sputare in terra si sputare in terra così il signor truppel ha guardato afflittissimo per terra lo sputo del fratello ed è stato lì lì per cavare di tasca un fazzoletto per andare a pulire no no sputare in terra gli ha gridato il fratello sputare in terra così e ha sputato di nuovo santo nome di dio benedetto se non sa sputare lui se non sputa mai neppure nel fazzoletto da quella brava persona che è sì sì va bene il signor truppel ha promesso giurato per placare il fratello ma ha passato il primo momento si sa che valore hanno certe promesse certi giuramenti anche per coloro a cui sono fatti il signor livo truppel intanto per ogni buon fine si propone d'andardi nascosto in casa del suocero per scongiurarlo di non venire da lui almeno per qualche tempo ma il giorno che ci va trova nella casa del suocero un tale scompiglio e per una ragione così inopinata che il signor livo truppel stima prudente tornarsene indietro senza farsi vedere da nessuno settimo berecche ragiona partito partiti entrambi scomparsi da sei giorni faustino e l'altro gino viesi scomparsi il quartierino nella villetta fuori mano la pace sognata per gli ultimi anni in quel ritiro quasi campestre con la villa patrizia davanti quella cortina di cipressi là maledetti dalle donne come un tristo presagio di morte ma pur belli quei cipressi a vedere che non sanno del funebre ufficio a cui l'uomo li destina e si indorano al sole al bel sole che entra per le quattro finestre sul giardino e si stende nelle stanze e pur belli sotto la luna la sera mentre la fontanella chioccola vicino a la fontanella sì ma chi l'ascolta più e c'è il sole chi lo vede chi bada alla luna solo quei cipressi là maledetti ora si parano davanti saltano agli occhi ispiti lugubri appena la ghiaia si sente scricchiolare nel giardino sotto i passi di qualcuno no no il guardiano e pianti strilli strepiti che sodono da lontano fin dalla via nomentana sodono e per dio di questi tempi il cuore d'un galantuomo se questa è vita il passante irascibile col giornale aperto in mano da cima a fondo occupato dalle notizie della guerra si ferma e altri passanti fa fermare sarà una rissa che diavolo si ammazzano anche per niente due tre non reggono alla curiosità imboccano di corsa la traversa appena tracciata altri due tre li seguono ma perplessi si voltano a guardare quelli rimasti sulla via meno curiosi o più prudenti guardano intorno che buon odore di fieno pare in campagna si risolvono accorrono anch'essi davanti al cancello guardano inquieti alle quattro finestre da cui quei pianti quelli strigli quelli strepiti s'avventano che avviene nessuno si muove strepitano lì dentro ma intorno tutto è tranquillo e il guardiano della villetta o eccolo là pacifico sta a mangiare ma niente dunque qualche disgrazia una morte forse a non si sa neppure strillano così scomparsi come alla guerra dove alla guerra in francia bello quel villino s'affitta sei quartierini non sarà mica tanto alta la pigione ah sì tanto per questo è tutto sfitto bello sia al sole un bel giardino troppo lontano però quasi in campagna dio ma strellare così poi sarà la madre vero la fidanzata no questa è la madre il guardiano fa un cenno come per dire impazzita e se ne torna a mangiare se ci sono pazzi al mondo per dio con la guerra che pende sul capo di tutti volerci andar prima come fosse una festa a cui non sembri l'ora ad arrivare no per questo ecco se ne sono andati in francia ma che francia mi faccia il piacere la francia caro signore si difende aggredita il pericolo vero per noi ma lasci stare via che o di qua o di là siamo neutrali siamo neutrali e se ne andiamo a mangiare conclude filosoficamente un operaio romano poterlo fare da sei giorni non si mangia non si dorme in casa berecche due furie scatenate la moglie e la figliola carlotta specialmente la moglie scarduffata strozzata dagli strilli dal continuo mugolare corre per casa annaspando come se cercasse una via di scampo al suo folle dolore le corre appresso carlotta appresso le tre povere zitellone sorelle di monsignore venute dal villino di rimpetto magre tutte e tre allo stesso modo pettinate e vestite allo stesso modo tutte e tre di grigio con uno scialletto nero sul seno per la morte del santo padre appresso una dietro l'altra con la bocca appuntita gli occhi sbarrati e pietosi accomodandosi lo scialletto sul seno con le mani inquiete in un dito il ditale tutte e tre perché sono accorse agli strilli mentre stavano a cucire e non sanno come confortare quella madre signora dice una e l'altra dice ma signora e la terza ma signora mia non può sentirsi dir nulla la madre disperata grida grida fino a stracciarsi la gola levando le braccia e scotendo le mani frenetica appena qualcuno accenni di volgerle una parola o benedetto il nome di dio benedetto il nome di dio anche monsignore venuto ieri è stato accolto così la serva spazzare le ha strappato di mano la scopa e l'ha inseguita per dargliela in testa ha lanciato per aria guanciali coperte lenzuola dai letti che quella si era messa a rifare dalla tavola da pranzo ha strappato la tovaglia con tutto il vasellame apparecchiato un fracasso di piatti bicchieri bottiglie infrantumi giù a terra vedesse almeno il terrore della povera margheritina che al fracasso è balzata dal pianto silenzioso nel suo solito cantuccio con le manine aggricchiate e tremanti innanzi al petto non vede nulla non ode nulla di tratto in tratto s'avventa contro l'uscio dello studio lo sforza furia di manate di spallate di ginocchiate e si scaglia contro il marito gli si para davanti con le dita artigliate sulla faccia come volesse sbranarlo e gli urla feroce voglio mio figlio voglio mio figlio assassino voglio mio figlio voglio mio figlio berecche più vecchio di vent'anni in sei giorni non dice nulla per quanto offeso in fondo dalla volgarità della manifestazione rispetta lo strazio di quella madre che è lo strazio suo stesso verso vederlo però con tal furia volgare ritorto contro di lui gli provoca sdegno e per poco lo strazio accenna ad arrabbiarsi anche in lui e di insorgere allo stesso modo feroce ma lo frena e guarda con così acuto spasimo negli occhi la moglie che queste in prima sbarra i suoi da folle poi disperatamente rompendo impianto che spezza il cuore gli sagrappa al petto sul petto gli fruga con la testa scarmigliata e geme dammi mio figlio dammi mio figlio e allora berecche dapprima con un muto sussultare del petto e delle spalle poi con un fitto singultio nel naso si piega a piangere anche lui sul grigio capo scarmigliato della vecchia compagna non amata tutto il primo giorno sei giorni addietro passato in un'ansia crescente d'ora in ora tra un'oscura costernazione e un'irritazione sorda man mano anch'esse crescenti per il ritardo del figliuolo a rincasare ritardo sempre più inescusabile inesplicabile perché non c'erano più dimostrazioni per roma che potessero far pensare a un arresto come l'altra volta poi la sera le corse affannose di qua e di là in cerca di lui dove si fosse potuto attartare tanto nei caffè in casa di qualche amico nella camera mobiliata di gino ginoviesi e la sorpresa qui nel sapere che anche lui ginoviesi uscito dalla mattina alle sette non sarà più fatto vedere poi la notte quella prima notte senza il figliuolo in casa con la casa che sembrava vuota e paurosa come vuoto e pauroso l'animo di lui e le ore che passavano a una a una lente e eterne sulla sua ansia pure angosciata dallo sgomento di vederle passare così a una a una nella vana attesa alla finestra con l'ossessione delle vie per cui il figliuolo poteva essersi incamminato per cui forse camminava ancora nella notte per allontanarsi sempre più sempre più dalla sua casa sciagurato ingrato ma dove dove diretto e poi l'alba e il silenzio di tutta la casa orribile con le donne cedute al sonno tra il pianto là sulle seggiole col capo sulla tavola sotto il lume ancora acceso a quel lume giallo nell'alba e quei corpi là che da sé a poco a poco si erano composti in atteggiamenti pietosi rassettati per non soffrir tanto per trovare un po di requie essi almeno se l'anima nel sonno angoscioso non poteva trovarne e poi al mattino e durante tutto il giorno seguente le altre corse tre e quattro alla questura prima per denunziare la scomparsa del figliuolo e di quell'altro là perché fosse spiccato subito e diramato dappertutto un ordine d'arresto poi per sapere se qualche notizia fosse giunta e mai nessuna quei no quel no del delegato rosso lentigginoso che pure la mattina pareva avesse preso con impegno la cosa nel sentire che forse si trattava di due giovanotti che tentavano di passare in francia per arruolarsi nella legione garibaldina e ora più niente tutto intento ad altro ora come se non si ricordasse più neanche dell'ordine dato e le invettive le aggressioni d'ora in ora più violente della moglie e della figlia carlotta perché erano sicure che faustino e quell'altro erano scappati via per lui ma sì per lui che aveva fin dall'infanzia oppresso quel figliuolo col metodo tedesco con la disciplina tedesca con la cultura tedesca fino a farli concepire un odio indomabile inestinguibile per la germania che dio la danni in eterno e ultimamente in faccia all'altro che piangeva due fratelli uccisi non aveva forse avuto il coraggio di gridare che l'austria aveva tutto il diritto di mandargli al macello coi due fratelli lui lui per questo erano scappati per dargli una giusta risposta per fare una giusta vendetta dei sentimenti da lui offesi nell'uno e oppressi nell'altro fin dall'infanzia ebbene non basta tutto questo ce n'è anche davanzo per spiegare come bere che si sia in sei giorni invecchiato di 20 anni ma no non basta invecchiato bere che ora sostiene che non soffre più nulla proprio più nulla al massimo ecco può ammettere ammettere ed avere l'idea astratta del suo dolore l'idea astratta forse sì ma non del suo dolore propriamente del dolore di un padre così in genere a cui sia accaduto quello che è accaduto a lui in realtà però non sente nulla piange sì forse ma come un commediante come un commediante sulla scena per l'idea soltanto del suo dolore non perché lo senta si figura di sentirlo e lo dà a vedere che c'è da spaventarsi se dice così la prova più convincente è questa che gli ragiona ragiona è in grado di ragionare perfettamente perfettissimamente ti dico per dio che ragiono grida al buon fongi sonnacchioso che è venuto dalla birreria a fargli visita ragiono come se il buon fongi sonnacchioso sostenesse che non è vero e guai se non ragionassi almeno io qua dentro le hai vedute le hai sentite quelle due furie la colpa è mia via dimmi anche tu dimmi anche tu che la colpa è mia mi faresti piacere sai mi rialzerei di più in mezzo a tutti questi pianti in mezzo a tutti questi strilli con l'orgoglio di esser certo che io solo ho la mia ragione ancora qua 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 e si picchia forte sulla fronte qua per compatire chi mi accusa qua per compiangere con quelle due disgraziate anche questa miserabile italia donna come loro che non avrà mai ciò che si chiama disciplina della vita ma non vedi non vedi che avviene in questa miserabile italia perché si è presa una misura di tremenda disciplina la neutralità i figli che ti scappano le madri che urlano ti sembra che io non ragioni il buon fongi dal gran naso carnuto tiene la testa bassa e lo guarda come impaurito di sui cerchietti di platino degli occhiali a staffa medico in ritiro forse pensa entro di sé che nessun segno più manifesto di pazzia che il ragionare o il credere di ragionare in certi momenti a ogni modo se non proprio impaurito si mostra perlomeno sbalordito il buon fongi e non risponde né non né sì quantunque bere che lo mire con certi occhi che aspettano i rosi una risposta affermativa no dici di no io io veramente pensi forse che al primo annunzio della dichiarazione di neutralità da parte dell'italia io mi scagliai contro il governo no non penso ma devi pensare devi pensare per dio io ho bisogno di pensare in questo momento mi stai davanti come una marmotta il buon fongi si scuote un po sa fretta a dirgli ma sì pensa se ti fa bene tu devi pensare con me gli grida berecche devi pensare che io obbedivo allora di primo lancio a un sentimento di lealtà capisci a un sentimento di lealtà verso quella nazione che mi aveva insegnato la disciplina la quale sai che vuol dire vuol dire frenare frenare soffocare se occorre i sentimenti naturali di padre di figlio tutti i sentimenti naturali che non vogliono aver legge hai capito frenare la natura che insorge contro la ragione hai capito ma mi sono ravveduto subito ho compreso che la vera disciplina per noi doveva consistere nel soffocare anche questo sentimento di lealtà e l'ho soffocato e sono arrivato anche a riconoscere che la germania ha agito sconsideratamente capisci che la germania ha sbagliato che la germania ha perduto la testa a questo a questo sono arrivato si fa sempre più piccolo il buon fongi e pare che il naso gli diventi sempre più grande glielo guarda berecche quel naso e a mano a mano si sente crescere contro di esso un'irritazione ingiustificabile che naso è quello che insopportabile realtà quel naso gli scagli addosso una confessione così grave e niente ecco niente resta lì immobile non si commuove pacifico per quanto voluminoso non si commuove naso romano sono arrivato a questo urla berecche e ad ammettere anche se vuoi che si è messa contro di noi la germania aiutando per puro pretesto l'austria in una guerra offensiva che rompendo i patti d'alleanza doveva renderci per forza l'austria nemica era disciplina per noi l'alleanza con l'austria la germania l'ha spezzata perché dichiarando una guerra doveva capirlo che noi con l'austria non potevamo essere più non solo ma dovevamo per forza essere contro l'austria a questo ero arrivato e anche a pensare che se ci saremmo mossi anche noi e il mio figliuolo o perché chiamato prima del tempo sotto le armi o perché spinto da un sentimento a cui io allora non avrei saputo pormi sarebbe andato volontario alla guerra ci sarei andato anch'io anch'io così come mi vedi volontario a 53 anni e con questa pancia ci sarei andato anch'io ma ora questo figlio eccolo qua vedi si è voluto mettere contro di me ha inteso di mettersi contro di me e perché perché come tutti gli altri non conosce la disciplina della vita e contro di me ha messo questa povera madre e la sorella e spaventati fongi ora si spaventati contro di me ha messo anche me stesso sì perché c'è anche un padre in me che piange e a cui io che conosco la disciplina della vita sono costretto a gridare dalla buffone non piangere perché tu hai torto di piangere piangano gli altri io non piango non piango più neanche se mi arriva la notizia vedi che è morto non solo ma ti dico questo e te lo dico forte perché lo sentano anche di là quelle due furie che vorrebbero impedirmi di ragionare venendo qua a gridarmi che vogliono da me il fratello e il fidanzato come se io fossi pazzo come loro ti dico questo che adesso io sono di nuovo per la germania sì sì te lo dico forte per la germania per la germania che avrà commesso una pazzia anzi l'ha commessa di certo ma vedi che spettacolo offre ancora tutto il mondo se l'è concitato contro e lo tiene a bada tutto il mondo impotenti tutti contro lei potente che spettacolo è questo e volete abbatterla distruggerla chi la francia fradicia la russia quei piedi di creta l'inghilterra e valgono forse più di lei che valgono di fronte a lei niente niente non la vince nessuno ah finalmente dalla sua balordaggine così battuta così pestata così accoppata dalla fiera invettiva sorge tutta un tratto il buon funge col suo gran naso per protestare no ha una notizia con sé una notizia che si tiene in corpo fin dal suo arrivo e che ha salito da tanti pianti da tanti strilli non ha trovato ancora modo di metter fuori io dice ho qua una lettera di faustino per miracolo bere che non trabocca giù tutti in un fascio diventa pallidissimo poi tutta un tratto paunazzo si scaglie addosso al fungi come se fungi se ne volesse scappare tu gli grida una lettera di faustino e piange ride e trema tutto e col passo legato corre a gridar nel corridoio una lettera una lettera di faustino subito margheritina margheritina conducete anche margheritina e mentre la moglie carlotta con margheritina per mano irrompono nello studio ansanti frementi di impazienza strappa con le mani che gli ballano dalle mani del fungi la lettera e si prova a leggerla forte diretta a lui a lei già caro ecco caro signor oddio caro signor fungi non può la vista la voce il fiato anche le gambe gli mancano si abbandona su una seggiola e cede a carlotta la lettera perché la lega lei la lettera è datata da nizza e dice così caro signor fungi so l'affetto che ella ha per mio padre e mi rivolgo a lei per pregarla di recarsi da lui appena riceverà questa mia ad annunziargli ciò che del resto forse a quest'ora avrà indovinato e lascio immaginare a lei con quale sdegno e con quanto dolore ma gli dica signor fungi che io non sono venuto qua a combattere per la francia ne sarà contento sono venuto qua perché convinto e dio volesse a torto che l'italia ancella come sempre ora senza padroni non farà nulla i due che aveva l'uno cattivo che l'ha sempre angariata l'altro che si è dato sempre l'aria di proteggerla piccola vecchia signora decaduta tutta un tratto senza neppur licenziarla senza neppur dirle che potevano anche fare a meno dei suoi servizi l'hanno lasciata sola e si sono messi a sbrigare da sé le loro faccende ora la povera italia neppur certa ad essere stata licenziata non sa che fare né dove andare a paura degli antichi padroni e a paura di mettersi a servizio di nuovi che dalle agenzie di collocamento dette ambasciate la richiedono e le fanno pressanti esibizioni da che parte voltarsi tra chi le dice di stendere questo quel braccio per riprendersi di qua o di là quello che era suo e che tutti le hanno preso star sola da sé la povera signora decaduta non sa e non può avvezza come è ormai da tanto tempo a servire padroni per poca mercede negli appartamenti della sua casa antica magnifica riosa piena di sole in luogo ridente e fiorito molte cose belle lo so e molte cose grandi e gloriose sono in questa casa antica di cui la povera signora decaduta ha fatto una locanda ma vi sono pure cose tristi e una grande miseria specialmente nell'anima dei figli di questa signora nati servitori la mamma li ha educati alla prudenza alla tolleranza a farle viste di non capire di non sentire a prendersi anche in santa pace se capita uno schiaffo per mancia rispondendo con un bel inchino grazie signore li ha educati a portare con disinvoltura tutte le livree come l'abito a loro più proprio a spazzolare con disinvoltura dalle falde di ciascuna l'impronta dei calci ricevuti e star bene attenti nel fare i conti che spesso ahimè povera mamma le sono venuti sbagliati a suo danno ebbene signor funghi dica mio padre che io sono qua in francia non per la francia con altri miei compagni non molti o non molti ma soltanto per dimostrare che tra tanta prudenza tra tanta tolleranza tra tanta ancortezza per non sbagliare i conti e tanta perplessità nel decidere quale livrea convenga meglio indossare in questo momento c'è pure in italia niente un po' di gioventù sprecata anche un po' di gioventù che non sa fare i conti e non sa essere accorta e prudente un po' di gioventù ecco alla nostra madre italia non serve forse non servirà anzi le farà danno dentro siamo venuti a gettarla qua fuori per lei la mia mamma piccola dirà ma come e non c'ero io che sono pur mamma a me sì tu mi servi è vero mamma ma pensa che questo è un momento che tutte le piccole mamme come i loro figli bisogna che si sentano figlie piccole anche esse ed una mamma più grande io sono qua per te se sono venuto per questa grande mamma comune benché tu forse ora creda il contrario le baci per me la mano signor fongi e la assicuri che io le darò frequenti notizie di me conforti mio padre che forse soffre tanto di non potermi perdonare baci le mie sorelle e dica a carlotta che gino è qua con me e che questa notte le scriverà a lungo a lei signor fongi i miei più vivi ringraziamenti e un suo rispettoso e cordiale saluto suo devotissimo fausto berecche piangono tutti hanno pianto durante la lettura piano per non perdere una sillaba ora che la lettera è finita seguitano a piangere piano ancora per poco come per non sperdere l'eco d'una voce lontana fongi mormora piano quasi tra sé nobilissimo nobilissimo berecche alla fine balza in piedi soffocato e si butta arrangolando sulla moglie se la stringe tra le braccia china di nuovo il viso sul capo di lei e tutte e due ora così stretti piangono forte sussultando carlotta braccia margheritina e piangono forte anch'esse il buon fongi dal canto suo si torce per cavare dalla tasca di dietro della lunga finanziera il fazzoletto il gran naso pacifico lì se proprio commosso alla fine e se lo soffia più riprese forte ripetendo ogni ripresa con un moto del capo di profonda convinzione nobilissimo nobilissimo ottavo nel buio la sera quando il guardiano della villetta spento la luce della scala e il giardino resta al buio berecche e guardingo rabbuffato col capo insaccato nelle spalle riapre il portone che quello ha chiuso ora ora e lo chiama il guardiano che non se l'aspetta si volta quasi impaurito berecche gli facendo con le mani da accostarsi in silenzio senza far troppo stridere la ghiaia e si mette a confabulare con lui in gran mistero e per meno di 600 dice quello a un certo punto piano piano perché il governo ha fatto già presso tutti i mercanti la requisizione almeno dicono sa com'è in questi momenti sì sì ma per 600 lire ha un cavalluccio buono sì anche da sella ma io dico da sella le serve per piano piano da sella sicuro per 600 lire lo trova da accaparrare per ora versando una somma 200 che so 250 lire così perché io lo spero ma se in caso non mi dovesse servire ecco perderei soltanto la caparra ma o vi prego di nascosto silenzio con tutti ben occupate voi e berecche rabbuffato col capo insaccato nelle spalle in punta di piedi rientra nella villetta e lascia lì nel giardino buio il guardiano inchiodato dallo sbalordimento per quel misterioso acquisto d'un cavallo commessogli così di nascosto al buio dall'unico inquilino della villetta bravuomo serio di studio cavallo da sella che nessuno lo sappia richiuso pian piano il portone rientrato nel suo appartamento berecche sempre in punta di piedi attraverso il corridoio si chiude nello studio siede al tavolino trae dalla cartella un foglio di carta vi scrive su a sua eccellenza il ministro della guerra roma solleva l'indice della mano che regge la penna e se lo applica sulle labbra medita a lungo ciò che vuol chiedere a sua eccellenza il ministro della guerra gli è chiaro in mente ma è in dubbio dell'esattezza dei termini militari si dice corpo guide volontari a cavallo o in altro modo sarà meglio informarsi prima al ministero della guerra e poi dovendo dichiarare gli anni 53 non converrà a unire alla domanda un attestato medico di sana e robusta costituzione fisica potrà averlo da funghi domani da funghi no da funghi no mormora deve essere un segreto per tutti e poi a funghi ha fatto una dimostrazione così lampante di essere nel possesso della sua ragione e gli ha gridato con tanta violenza che gli è di nuovo tutto per la germania no da funghi no se non che a rivolgersi a un medico qualunque non amico potrà essere sicuro d'avere questo attestato di sana e robusta costituzione fisica il cuore il cuore da un pezzo non lievate più in regola ha il cuore stanco e spesso il capo così greve chissà si rivolgerà prima un medico qualunque se non potrà averne l'attestato ricorrerà al funghi raccomandandogli il segreto berecche vuole andare in guerra anche lui rimette il foglio intestato dentro la cartella si alza e va a uno degli scaffali ne cava un manuale epli su l'equitazione ritorna a sedere innanzi al tavolino vi appoggia i gomiti si prende il capo tra le mani e si sprofonda nella lettura preparatoria capitolo primo storia ed accenni preliminari dell'equitazione il giorno appresso alla cavallerizza in via po un involto sotto il braccio i gambali di cuoio e un frustino comperati aurora un altro involto più piccolo in mano gli speroni berecche si presenta al signor felder maestro di maneggio corso accelerato ma scusi il signore ha già una certa pratica del cavallo berecche scuote il capo no e allora esclama con un sorriso di pietosa meraviglia il signor felder contempla un po quel pezzo domone grave dalla quadrata corporatura che li sta davanti aggrondato poi chiestogliene il permesso li tasta i muscoli delle gambe veramente un po fiacche veramente un po secche in proporzione dell'ampio torace li prende una mano scusi e lo invita a piegarsi su quelle gambe tenendosi sulla punta dei piedi giunti la reggo io berecche più che mai aggrondato scuote di nuovo il capo rifiuta quella mano ha fatto in casa chiuso a chiave nello studio quell'esercizio e lo eseguisce ora da sé senza aiuto una due tre volte elasticamente con gli occhi chiusi innanzi al signor felder che approva ah bene ah bene benissimo berecche si rialza e al signor felder sempre più stupito dell'aria fosca con cui quel nuovo cliente gli parla annunzia di avere studiato tutta la notte e che perciò quanto a nozioni teoriche si può dire già a cavallo indica in un punto della pesta il cavallo ginnastico di legno e fa il gesto di scartarlo con la mano che di quello cioè può farne a meno perché in teoria conosce già tutte le posizioni e le aree e le difese del cavallo evoluzione mezzaria parata passata piroetta un po di pratica solo un po di pratica alla svelta conclude ecco ho portato qua questo paio di gambali me li metto mi faccia montare proviamo subito anche su un cavallo un po cattivo vivace intendo sarà meglio se casco non fa nulla il signor felder si prova a fare parecchie obiezioni ma berecche lo interruppe ripetendo ogni volta le dico che se casco non fa nulla con tono così perentorio che alla fine alza le spalle si sottomette a contentare lo strano cliente non casca quella prima volta berecche ma se vuol fare così a modo suo perché mai è venuto in una scuderia d'equitazione così prima o poi si romperà il collo non una ma dieci volte e basta una non gliene importa ma importa a lui al signor felder che non vuole responsabilità perché nella sua scuola ecco guardi soggiunge provi piano prima all'inglese vale a dire domanda berecche col fiato grosso infiammato in volto dall'alto del cavallo ecco ripiglia il signor felder lei sa c'è il modo di cavalcare all'italiana e il modo all'inglese provi piano all'inglese guardi che si tenga in sella un po sospeso sulle staffe così e che salzi e si abbassi secondando l'andatura del cavallo sicuro inchinando un po il capo e la vita così avanti verso il collo della cavalcatura non troppo dico sa per non aver troppe scosse alla testa vedo che si lei si congestiona un poco ah non se ne curi esclama berecche ma proviamo pure all'inglese dia dia prima piano piano le dico dia il maestro da il cavallo si lancia al galoppo e allora berecche oddio oddio si chiude in sella si chiude in sella gli va urlando dietro per la pesta il signor felder rinsacca maledettamente berecche pencola si storce di qua di là e alla fine patapunfete rimanendo staffato cosicché il cavallo se lo strascina per un pezzo per la pesta niente non si è fatto niente ma all'inglese ecco non va niente le dico per dio sono contentissimo niente un po qua al piede ma è già passato all'inglese non va mi faccia rimontare vado meglio all'italiana come prima e mi dia il frustino il signor felder si tira un passo indietro ponendosi il frustino dietro le spalle ah frustino niente caro signore le dico mi dia il frustino fossi matto ma lo sa lei che se avevo il frustino non cascavo ride ansando dall'alto del cavallo berecche è proprio contento anche della caduta sì è stato un bel momento una gran gioia è stata per lui galoppando e rinsaccando a quel modo pensava a faustino alla guerra a faustino che si lanciava una carica alla baionetta contro i tedeschi e via 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 di galoppo con lui così a occhi chiusi nella mischia vuol riprovare la stessa gioia ora su mi dia il frustino senza storie si avvicina col cavallo si protende strappa al signor felder di dietro le spalle il frustino e via frustando il cavallo si lancia di nuovo al galoppo per la pesta con gli occhi chiusi rituffandosi nella violenta visione dei garibaldini alla carica con faustino alla testa e più il suo ragazzo li corre davanti con la camicia rossa e la baionetta in canna e più lui frusta il cavallo avanti avanti viva l'italia ah come sono rosse quelle camice un po di gioventù un po di gioventù sprecata chi grida così nella pesta ah che turbine chi corre avanti com'è qua fermo che è stato gridano accorrono bere che è stramazzato bocconi con la fronte spaccata ha un ansito tremendo ma è pieno di gioia non soffre nulla è dolente solo per quel buon signor felder che grida sulle furie gli vorrebbe dire che non è niente che non si dia pensiero di nulla che nessuno lo chiamerà responsabile del male che lui si è fatto alla testa è grave domanda alla gente a corsa a sollevarlo da terra dagli occhi con cui quella gente lo guarda comprende che è grave ma non sa non può vedersi la faccia con quella ferita aperta sulla fronte e ride con la faccia così insanguinata per rassicurare quella gente e dice e allora alla guerra lo prendono per le spalle per i piedi e lo trasportano fuori lo adagiano su una vettura e lo conducono al policlinico ma allora alla guerra contro ogni supposizione diversa che altri possa fare bere che seguita a ragionare e ne dà ancora una prova la sera allorquando con un turbante di bende che gli avvolge non solo tutto il capo ma anche mezza faccia nascondendogli tutte e due gli occhi lo riportano in casa dal policlinico una caduta una caduta non dice altro né come né dove sia caduto una caduta ma ragiona tanto vero che subito comprende che dicendo così senza spiegare come dove sia caduto la moglie la figlia carlotta possono supporre che egli abbia tentato d'uccidersi e allora soggiunge niente per via una vertigine non vi spaventate gli occhi sono salvi solo alla fronte sulle ciglia uno spacco niente passerà vuole essere condotto nello studio e posto a sedere al suo solito posto della sera vuole solo con sé margheritina se la fa sedere su un ginocchio la abbraccia ragiona ma gli sembra che margheritina il lampadino rosso innanzi alla madonnina del villino di rimpetto almeno quello solo si possa vederlo se è acceso e glielo domanda margheritina non risponde verè che comprende che no neanche quello può vedere margheritina la sua animuccia cara e se la stringe al petto più forte forse non sa neppure margheritina che lì di rimpetto c'è un villino con una madonnina uno spigolo e un lampadino rosso acceso chi è il mondo per lei ecco ora egli può intenderlo bene buio questo buio tutto può cambiare fuori diventare un altro il mondo un popolo sparire ordinare altrimenti un intero continente passare anche vicina una guerra abbattere distruggere che importa buio questo buio per margheritina sempre questo buio e se domani là in francia faustino sarà ucciso o allora anche per lui senza più quella benda con gli occhi di nuovo aperti alla vista del mondo sarà tutto buio sempre così anche per lui ma forse peggio perché condannato a vederla ancora la vita questa atrocissima vita degli uomini torna a stringersi forte al petto la sua cechina sempre chiusa nel suo silenzio nero mormora e di questo figliola mia di tutto questo siano rese grazie alla germania grazie a tutti grazie a tutti